Ciao a tutti, amici di Vanilla. Il vecchio, selvaggio West. Il racconto dei pionieri che si spostarono da est a ovest negli Stati Uniti d'America nell'Ottocento è ricco di mitologia, di leggende e anche di crude verità. Su quei racconti si fonda buona parte dell'unità nazionale statunitense odierna ed è ovvio che sia tutto trasposto nella forma del mito. Oggi parliamo di verità storica, raccontando una spedizione ribattezzata Donner dal nome di uno dei capi, il cui esito è stato tragico. Ne raccontiamo una, ma potrebbero essere state molte altre, anche se credo che questa sia particolarmente significativa perché sfata molti dei miti della colonizzazione delle terre al di là del fiume Mississippi. Gli indiani, come venivano chiamati i nativi americani all'epoca, sono i grandi assenti del fallimento della spedizione, mentre sono presenti la fame, il freddo, la morte. Tutti i drammi che non vengono menzionati nelle opere che mitizzano l'epoca di colonizzazione americana, ad esempio il segmento di Pecos Bill nello scrigno delle Sette Perle, un classico Disney del 1948 che si potrebbe tranquillamente definire propagandistico. Oggi fa davvero sorridere guardarlo conoscendo un minimo di storia delle guerre indiane, se potete vedetelo. Insomma, un racconto per capire davvero cosa fu la colonizzazione degli Stati Uniti d'America, quanto fu difficile, complessa e che come sempre per le migrazioni dei popoli fu portata a termine nell'ottica del miglioramento delle condizioni di vita precedenti. Insomma, saranno 15 minuti spesi bene, ve lo garantisco. L'articolo da cui è tratto il video di Alessandro Liccheri che ho editato personalmente. Ah, un'ultima cosa. Se non siete ancora iscritti, cliccate il tasto iscriviti e sostenete Vanilla Magazine. Abbiamo bisogno del vostro supporto per raccontare quelle storie che, come questa, non vengono insegnate nelle scuole. Grazie mille. Verso la metà del XIX secolo, gli Stati Uniti erano determinati a unire le due coste dell'oceano, l'est e l'ovest. Le mire statunitensi erano rivolte al Pacifico e non sarebbero bastate delle guerre per riunire le due sponde. Serviva un più ampio movimento colonizzatore. Servivano pionieri che, attraversando le grandi pianure, il deserto e le montagne rocciose, sarebbero andati a far crescere le piccole comunità occidentali, rendendo le basi di partenza funzionali all'imperialismo del nuovo gigante continentale, che con grande avidità ammirava le ricche coste asiatiche. Esplorazioni e studi cartografici ampliavano la conoscenza delle aree poco o per niente esplorate. Carte topografiche, opuscoli, notizie di cacciatori e mercanti circolavano col favore del governo, attivatosi in una specie di campagna promozionale delle fertili e miti coste occidentali. In California ancora non era stato scoperto l'oro. I uomini più audaci dovevano solo migrare e sperare nella buona sorte. Negli ultimi mesi del 1845, nella cittadina di Springfield, in Illinois, alcune famiglie, prima fra tutte i Donner e i Reed, si attivarono leggendo, informandosi e discutendo sulle nuove piste, sulle notizie di recente pubblicazione, sulle opportunità offerte dalla costa del Pacifico e sulle possibilità di affrontare un viaggio di quella portata. La casa dei Donner era divenuto un centro di discussione per queste famiglie. Il piano era raggiungere Independence nel Missouri per unirsi all'Oregon Trail, proseguire con essa fino a Fort Hall e da lì dirigersi a San Francisco. I tipici carri coperti col caratteristico tessuto biancastro vennero riempiti di tutto, viveri, tessuti, attrezzi, cianfrusaglie da scambiare con i nativi, libri e altri oggetti. I giorni che precedettero la partenza furono trascorsi fra i preparativi, i festeggiamenti e gli addii. Nell'aprile del 1846 la carovana lasciò la città. Per vedere però il resto del racconto, ora ci spostiamo a casa vanilla. Independence era in fermento. I carri affollavano la zona, le persone mercanteggiavano, si rifornivano, scambiavano informazioni e aggiustavano i carri già in precarie condizioni. Un tripudio di socialità. I gruppi si aggregavano e disgregavano. Tutti sapevano che quella sarebbe stata solo una sosta momentanea, che molte delle persone conosciute in quel punto di raccolta con cui, secondo Uiso un pasto, ci si è data una mano nelle riparazioni, con cui si sono fatti scambi e lunghi discorsi, non si sarebbero mai più incontrate. Da lì, con in mano una Bibbia donata dagli evangelici dell'American Track Society, impegnati nella diffusione del verbo, iniziava il vero viaggio. Disse Eliza Donner, abbiamo dato un'ultima occhiata a Independence. Ho dato le spalle al sole del mattino e siamo davvero diventati pionieri del Far West. I carri muovevano attraverso quella immensa distesa d'erba abitata dai bisonti che è la prateria americana. Si respirava un clima sereno di ottimismo. Gli schiamazzi dei bambini interrompevano la noiosa quiete. Di tanto in tanto si canticchiava una canzone, mentre in lontananza si sentiva la presenza di altre carovane. Ci si fermava per far riposare il bestiame, approfittando della sosta per fare un picnic o consumare un pasto intorno a un fuoco. Si affrontavano furiose tempeste, i tuoni illuminavano le colline, spaventando con i loro fragori uomini e animali, mentre i nativi seguivano il convoglio stando a debita distanza, salvo poi avvicinarsi a scambiare del cibo con qualche oggetto, zucchero o tabacco. A luglio si trovavano in prossimità del fiume Little Sandy. Quell'area rappresentava un bivio. I viaggiatori dovevano scegliere. Non tutti volevano andare in California, alcuni preferivano l'Oregon, altri ancora erano incerti. I Donner erano risoluti. La California era la meta e per raggiungerla avrebbero percorso un'altra strada. A far loro prendere questa decisione fu la notizia che la California voleva impedire l'ingresso di nuovi migranti a causa della guerra col Messico e per questo si consigliava di prendere un'altra via recentemente esplorata da Hastings, che passava a sud del Grande Lago Salato. George Donner avrebbe guidato la compagnia Fort Bridger dove avrebbe incontrato Hastings, il quale si scoprirà non trovarsi più lì. Li aveva preceduti lasciando istruzioni affinché i migranti seguissero la sua pista. Così si rimisero in marcia. Reed, mentre la carovana era ferma, avrebbe raggiunto Hastings, con cui concordò un percorso migliore di quello che stavano facendo. Erano nell'Ojuta. Dovevano ancora affrontare un labirinto tra le montagne. Intanto le provviste scarseggiavano, per cui venne deciso di inviare Stanton e McCutcheon al forte del capitano Sutter in cerca di aiuto. Superate quelle fertili vallate, era arrivato il momento di affrontare il deserto. A terra trovarono una lettera di Hastings che indicava un viaggio di due giorni. Allo scadere di questo lasso di tempo, però, ancora non si vedeva la fine di quell'arida distesa di sabbia. Si camminava a oltranza sotto il sole cocente, senza acqua e con gli animali stremati, mentre i miraggi infierivano sui loro deboli spiriti. Tornare indietro era impossibile. Ben presto dal clima caldo si passò alla neve e al freddo. Il deserto venne lasciato alle spalle insieme a molti carri e buoi. Ma nelle valli e nelle colline che si apprestavano a percorrere avrebbero potuto finalmente riprendersi. La carovana ogni tanto si divideva e diversi uomini non riuscirono a sopravvivere. A ottobre in Nevada incontrarono Stanton, tornato da Fort Sutter, con delle provviste. Non restava che attraversare le sierras. La California era lì, a portata di mano. A fine ottobre si trovavano nei pressi del lago tracchi in seguito ribattezzato proprio, lago Donner. La neve bloccava ogni passo, cancellava ogni sentiero. Si dovettero fermare per decidere la prossima mossa. Alcuni si erano appostati al lago, altri si trovavano poco distanti. Proseguire sarebbe stato pericoloso. Bisognava restare lì e attendere condizioni migliori, cercando di resistere al gelo invernale. Per questo vennero allestite delle capanne, fatte con tronchi d'albero e coperte con pelli di bufalo e altri tessuti. Elisa Donner racconta ancora. Tutto dentro era freddo, umido e tetro, finché la nostra stanca madre e le nostre sorelle maggiori non accesero il fuoco, prepararono la nostra cena e ci mandarono a letto, ciascuna con una zolletta di zucchero, come conforto. La neve cadeva senza sosta, erano tutti preoccupati, si sentivano impotenti. La priorità di tenere acceso il fuoco scacciava un po' la noia, ma la monotonia quotidiana che si profilava all'orizzonte, unita all'inattività, spegneva gli animi, sopiva la determinazione di quei cuori impavidi, che con grande zelo circa sei mesi prima erano partiti alla volta di terre più promettenti. Le provviste scarseggiavano, lo sconforto indeboliva le psiche dei già spossati e affaticati coloni, che tendevano sempre più a perdere la speranza e a rendersi al pensiero di essere ormai perduti. Alcuni attendevano solo la morte, altri cercavano di tenere i bambini fuori da questo stato di afflizione. Il bestiame non se la passava meglio, anzi diversi capi morirono mentre cercavano isperatamente riparo dal freddo fra i cespugli. Altri vennero soppressi per consentire agli uomini di sopravvivere. Non si buttava via nulla, tutto poteva essere utile. Si mangiavano persino i topi che si insinuavano nelle capanne. Ma in quella situazione non si sarebbe potuto resistere a lungo, a dicembre ci furono le prime vittime. Eliza Donner ci dà una testimonianza di quel periodo, dolcissima nel suo essere fanciullesca. Solo un momento felice è impresso nella mia mente. Doveva essere stato dopo la prima tempesta, perché il cumulo di neve davanti alla porta della capanna non era abbastanza alto da tenere fuori un piccolo raggio di sole che scendeva furtivamente i gradini e creava un punto luminoso sul nostro pavimento. L'ho visto e mi sono seduta sotto. L'ho tenuto in grembo, ho passato la mano su e giù nella sua luminosità, e ho scoperto che potevo spezzare il suo raggio in due. In effetti ci siamo divertiti un mondo. Immaginavo che si muovesse quando lo facevo, perché mi scaldava la sommità della testa, baciava prima una guancia e poi l'altra, e sembrava correre su e giù per il mio braccio. Alla fine ne presi un pezzo nel grembiule e corsi da mia madre. Grande è stata la mia sorpresa quando ho aperto con cura le pieghe e ho scoperto che non avevo nulla da mostrare, e il raggio di sole che avevo lasciato sembrava più corto. Dopo che la mamma mi ha spiegato la sua natura, l'ho guardata risalire lentamente ai gradini e scomparire. Ci si attaccava alle piccole cose, ai brevi e felici momenti. Alcuni decisero di partire e cercare aiuto, pur consapevoli delle esigue probabilità di successo, guidati da Stanton e William Eddy. Tutti ai campi rimanevano in un'opprimente attesa. Ci si arrampicava sugli alberi, scrutando il terreno con l'avidità di un falco in cerca di una preda, sperando di vedere qualche movimento o qualche traccia in lontananza. Il cibo era finito. Il bestiame morto era ormai sepolto dalla neve e introvabile. Ma i cadaveri dei compagni deceduti, no, sapevano dove erano stati sepolti. Fu arduo non approfittarne. Quei pensieri si insinuavano nella testa di alcuni coloni, trattenuti dai vincoli sociali che ancora tenevano legato il loro istinto di sopravvivenza. A fine febbraio i soccorsi arrivarono. William Eddy era riuscito a chiedere aiuto. La prima squadra che arrivò al campo trovò una situazione davvero disperata. Le pelli marcivano, la neve copriva le baracche, i morti giacevano senza sepoltura e i sopravvissuti erano ormai degli spettri deliranti in un ambiente oscuro e asfissiante. Urlavano all'improvviso e immaginavano di essere in qualche festa a godersi abbondanti banchetti. I soccorritori consegnarono poche razioni di cibo. Non dovevano lasciare che si abbuffassero, altrimenti sarebbero morti. Non restava che decidere chi sarebbe dovuto rimanere e chi tornare con i soccorsi alla civiltà. Non tutti erano nelle condizioni di spostarsi. George Donner si era gravemente ferito tempo prima e la ferita si era infettata. Sua moglie decise di restargli accanto. Una ventina di persone lasciarono il campo e non tutte arrivarono a destinazione. Successivamente giunsero altre spedizioni che portarono in salvo i superstiti, alcuni dei quali ricorsero anche al cannibalismo pur di sopravvivere. I coniugi Donner, perirono la moglie Thompson, rifiutò di lasciare solo il marito, lasciando orfani i propri figli. Circa la metà delle persone entrate nella Sierra Nevada morì. In tutto erano circa 50 persone. E così la costa del Pacifico si popolava. Le famiglie lasciavano per sempre le loro proprietà a est, vendendole o spartendole tra i parenti più prossimi, cercando fortuna dalla parte opposta, cercando terreni da coltivare e un clima migliore. Dovevano essere gli agenti del destino manifesto, diffondere i valori americani, la democrazia e la libertà prima di tutto. Dovevano colonizzare e civilizzare il continente. L'età della corsa all'oro era ormai alle porte e una nuova ondata migratoria si preparava a muovere i primi passi sulle orme di quegli avventurieri che aprirono una miriade di vie percorribili verso il tanto agognato West, soprattutto a discapito delle popolazioni native, che si videro investite da questo inarrestabile torrente umano. Il campo della spedizione Donner divenne presto una meta turistica, un monito e un ricordo per coloro che dopo di loro attraversarono il continente sospinti dalle più varie motivazioni. Il ricordo di un gruppo di persone comuni delle avversità che hanno affrontato e del prezzo che hanno dovuto pagare per raggiungere quei porti lontani.